Ciao fanciulle e fanciulli, questo è un video brevissimo per dirvi che ci sarà il secondo video incontro o video ritrovo, boh, quella cosa lì sono felicissima perché nel primo video incontro ci siamo divertite tantissimo ero appunto io con altre otto ragazze e abbiamo chiacchierato per un'ora, doveva durare mezz'ora invece poi siamo state più di un'ora insieme a chiacchierare abbiamo realizzato due trucchi che tra l'altro il trucco che ho realizzato proprio durante l'incontro, il ritrovo è l'ultimo che ho realizzato, quello naked turchese infatti l'ho dedicato a tutte le ragazze che avevano partecipato a quell'incontro e abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato un po' delle nostre cose, abbiamo parlato anche di trucchi e quindi sono felicissima di dirvi che venerdì ci sarà il secondo video incontro o video ritrovo ecco, forse è meglio video ritrovo per partecipare è semplicissimo, basta andare sul sito www.lunastorta.it partecipare a un gioco semplicissimo e poi in base al punteggio che farete entrerete in una graduatoria le prime otto persone parteciperanno appunto all'incontro vi ricordo che dovete lasciare la vostra email che sia una email reale e una mail che controllate spesso perché potrete giocare da questo momento fino a giovedì sul sito di Luna Storta giovedì le otto persone riceveranno una mail da Luna Storta e appunto avranno la possibilità di incontrarmi via webcam nell'appuntamento, nel ritrovo che si terrà venerdì alle ore 17 comunque vi inserisco qua sotto il box tutte le informazioni più dettagliate per essere il più precisa possibile quindi da questo momento fino a giovedì potete andare sul sito giocare in base al vostro punteggio potrete partecipare appunto in base al punteggio otto ragazze, otto ragazze, otto ragazze, otto persone parteciperanno al video incontro io sono felicissima, non vedo l'ora di stare un'altra ora in vostra compagnia preparatevi già delle domande voi otto che parteciperate parteciperete ok ce la posso fare Gabri su ce la puoi fare preparatevi già delle domande o delle curiosità anche perché l'ultima volta eravamo tutte un po' tutte un po' intimidite per me era la prima volta per loro era la prima volta quindi eravamo un po' tutte timidine non so, avevamo che dire, che fare invece poi dopo un po' ci siamo sciolte e a lì non ci ha fermato più nessuno quindi se avete delle domande particolari preparatele già perché secondo me è molto più carino parlare raccontarci qualcosa di noi fare delle domande che non star lì proprio a spiegare un trucco anche perché con la webcam comunque la risoluzione è quella che è quindi non è che si può vedere molto bene tutti i passaggi quindi preparatevi già delle domande io vi aspetto giovedì no, venerdì allora, vi aspetto venerdì alle ore chi a 7 nell'incontro per partecipare all'incontro allora dovete andare sul sito avere un account youtube o un account google più google plus e avere una webcam con microfono tutto qua quindi vi aspetto vi raccomando ho giocato in tantissime e noi ci vediamo al prossimo video ciao manciulle, manciulli ciao 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 Grazie.